Le riprese che state vedendo non sono state fatte nella via di un quartiere periferico di Voghera. Siamo in pieno centro storico per la precisione nel vicolo dai Molinari. Un passaggio che collega Piazza Duomo con Via Emilia, frequentato quotidianamente da centinaia di persone. Cittadini che denunciano il degrado in cui versa questo passaggio tra sterco di piccioni, murales e sporcizia e che oggi abbiamo scelto di documentarvi. Anzi, peggio di adesso. Peggio di adesso? Sì, anche peggio, sì, sì, sì. Il comune non so se fa qualcosa o no. Perché abbiamo visto che è pieno di starco di piccioni. A volte, cioè a volte, passo di qui però mi fa schifo e faccio il giro di là nella vietta perché qui... Apposta per non passare di qui? Sì, perché mi fa schifo. Non mi pare, non mi pare che venga tenuto ben pulito. Quindi le capita di vedere che è sporco spesso? Eh beh, abbastanza, sì. Io molto pulito non l'ho mai visto. Mi dispiace. Ma lei vede mai qualcuno che pulisce questo vicolo? Non ho mai visto nessuno. No, no. Io personalmente non ho mai visto nessuno. La speranza è che chi di competenza possa attivarsi in breve tempo per ripulire e valorizzare uno dei vicoli del centro storico più utilizzati dai vogheresi e dai visitatori della nostra cittadina. C'è una manutenzione un po' più importante perché infatti non è tenuto molto bene.